Buongiorno, auguri e buon Natale dalla Segreteria Assemblea Costituente Popolare 2014. Si saluta principalmente le forze dell'ordine, i malati, i cittadini, i paramedici e tutti quelli che non ricordo. Ma l'Assemblea Costituente Popolare 2014, la Segreteria, manda gli auguri a tutti i cittadini italiani, a tutti i cittadini italiani. Lo sappiamo, quest'anno è stato un anno molto, molto complicato. C'è crisi, sappiamo che molte famiglie non hanno da poter mangiare e non possono mettere il regalo ai bambini. Comunque andiamo avanti, un grande e caloroso saluto dalla dottoressa Antonella Buono del Sole d'Italia e dalla Segreteria dell'Assemblea Costituente. Tutto lo staff vi augura buon Natale e felice anno nuovo. Arrivederci e grazie.